Quella di Pasquale Fortunato è una candidatura che scotta la sua decisione di entrare tra le fila di Amare Praia del sindaco uscente Antonio Praticò ha meravigliato tante persone, ma a tutto c'è un perché. E in questo caso dobbiamo partire dal 2012, anno in cui Fortunato partecipò, quale aspirante candidato sindaco, insieme a Pietro De Paola, Anna Maria De Presbiteris e Massimiliano Cedolia, alle primarie. La mia candidatura non era una candidatura contro qualcuno o contro qualcosa, era una candidatura propositiva di un modo nuovo di interpretare la gestione della cosa pubblica. Ricordo bene infatti che il nostro slogan, cioè lo slogan della nostra lista, era proprio per una città nuova. Le cose poi sono andate come tutti sanno. Il mio progetto politico non è stato purtroppo premiato dalla maggioranza degli elettori. in quella, potrei definire, surreale competizione elettorale definita primarie. E quindi mi sono semplicemente eclissato dalla vita politica locale. Direi anche obbligatoriamente perché nella vita, spesso non tutti lo sanno, ma bisogna saper vincere, ma bisogna anche saper perdere. Eclissato non vuol dire però non interessarsi alla vita politica del paese. Fortunato ha comunque continuato a dialogare con i cittadini, ha sempre mantenuto buoni rapporti con l'amministrazione e soprattutto ha valutato positivamente l'operato dell'esecutivo pratico. Ed eccoci quindi al 2017. Quando quindi mi è stata offerta questa possibilità di partecipare, di offrire anche un mio piccolo contributo, diciamo, per far continuare questa spirale di buon governo già intrapreso, sono stato un po' in dubbio, devo ammettere. Mi sono consultato con la mia famiglia, con mia moglie e con i miei due figli, ai quali inevitabilmente sottrerrò con questo impegno, diciamo, del tempo. E con il loro conforto ho deciso, distinto alla fine poi, di accettare per il bene che voglio a Praia. I progetti di Fortunato sono tanti. Qualora venisse letto, punterebbe sulla creazione di un distretto turistico, ma soprattutto guarderebbe con particolare attenzione alla sanità. Da medico in servizio presso il CAPT di Praia a Mare, conosce bene le condizioni in cui versa la struttura, i tempi di attesa biblici per accedere a una visita, le carenze. Le idee ci sono, ma la battaglia deve essere fatta, prima di tutto, dal punto di vista politico. Posso pensare all'attivazione di una carta dei servizi, per esempio, in convenzione lente locale con l'ASP, cioè con l'azienda sanitaria provinciale, magari che possa favorire gli abitanti del posto per avere un percorso più rapido in termini di esecuzione di alcune prestazioni di carattere ambulatoriale. Ma inevitabilmente, se parliamo di sanità, non possiamo comunque non riferirci alla triste questione dell'ospedale di Praia, dove voglio essere chiaro subito, al di là dei tecnicismi economico-giuridici dei quali si sta parlando, e al di là anche delle iniziative finora fatte sia a titolo individuale che a titolo anche istituzionale, tutte apprezzabili e lodevoli, ma se siamo nella situazione in cui siamo, in cui l'ospedale di Praia è ancora chiuso ed è comunque in ogni caso attivo un solo servizio ambulatoriale, è evidente che questi sforzi finora fatti, per quanto apprezzabili e lodevoli, non hanno comunque centrato l'obiettivo. E io allora dico subito in questa sede, e lo dirò in ogni sede, che le responsabilità che io attribuisco alla politica sono pesanti. Parlo di politica con la P maiuscola, non dimentichiamo che la riclassificazione dell'ospedale di Praia da ospedale in casa della salute, in CAPT prima e oggi in casa della salute, è figlia di un atto politico amministrativo, cioè una delibera dell'allora commissario ad acta che ha riclassificato l'ospedale, l'allora ospedale di Praia, da ospedale in CAPT, in centro di assistenza primaria. Ebbene, il passaggio inverso, ovvero sia la riclassificazione da casa della salute a ospedale, dovrebbe essere praticamente figlia di uno stesso atto politico amministrativo, cioè una delibera dell'attuale commissario ad acta che riclassifichi di nuovo questa struttura in ospedale. Quindi è la politica che non deve assolutamente abiricare al suo ruolo che sia il Paese e le leggi comunque gli assegnano, perché altrimenti se la politica abitica delega le sue prerogative ai tecnici che non sempre sono molto attenti alle problematiche sociali, le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Quindi, insisto, la politica deve riappropriarsi dei suoi spazi.